Una riforma bloccata a causa dell'ostruzionismo che non capiamo, proposte serie non ne vediamo e siamo qui ad attendere che la situazione si sblocchi. Sicuramente è umiliante questo per l'istituzione del Consiglio regionale per i Veneti. Abbiamo pensato di meglio tutelare l'area del Bassanese, l'area del Veneto orientale perché ci sono determinate peculiarità, ora questo è diventato la stura per far ritornare le ULS in tanti altri territori del Veneto, questo non va bene sia per l'organizzazione, per l'efficienza e per il risparmio che noi invece intendiamo attuare con questa riforma. Io la voglio giudicare così, quando una minoranza vuole impedire alla maggioranza di governare e questo i Veneti lo devono sapere, si deve sapere che i Veneti hanno dato un voto con una certa chiarezza ad una maggioranza di governo, noi abbiamo fatto delle proposte che vanno a migliorare certamente la situazione della sanità in Veneto e che oggi ci ha impedito di poter governare perché qualcuno ha deciso che non gli piace questo tipo di idea solo che doveva vincere le elezioni, non bloccare i lavori dell'Aula. Star qui e perdere mesi e mesi a discutere del nulla perché invito tutti i cittadini del Veneto a collegarsi in streaming e vedere la qualità del dibattito per far capire che appunto stiamo perdendo tempo e che mi auguro e spero qualcuno riesca a capire che forse non è così che si fa il bene del Veneto non è così che si amministra una ragione. Grazie.